Ok, eccoci qui in questo pomeriggio e voglio dire, seguitemi e quando vedete, sto facendo ora il video, comincio, dopo quando finisco, aiuto la mia famiglia a pulire la tavola, cacciare i piatti, tutto, lavo tutto qua, a terra, i porti e dopo vado in riposo, sopra, io dormo sopra, voi state con la bocca chiusa, che non comandate voi, comando io quello che faccio. Vi voglio bene, poi vi dico del vostro Enrico Pasquale Pratico, io ho 29 anni, sono di Matasagnoanni, provincia di Reggio Calabria, mettete mi piace se volete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti ragazzi, siamo qua con questa camicia blu e con i padaloni bucati, eccole qua. Sto guardando il calendario io, che ora finisco qua, così aiuto e vado in riposo, mi devo prendere lo sciroppo. E niente, io sono bravo, gentile e facciamo un sorriso, io e voi, così siete contenti e state con me, che io sono il dio di YouTube, sono il numero uno, sono la leggenda, sono famoso e sono uno YouTuber, il vostro. E tutti in maniera, avete capito? Andiamo avanti fino alla fine, fino alla morte, baci. E oggi ho mangiato, la pasta con il pesto, un bicchiere di Coca-Cola, dopo il panino con il salame e il pomodoro, e ho busciuto, e la provola, e vediamo stasera che mangiamo. Ora, in questo pomeriggio, ora veniamo di mangiare. E niente, voi fate i compiti che fate, giocate, o lavorate, o dormite, ditemi voi in privato. Oggi c'è la diretta, che l'ho programmata ieri e la facciamo oggi, questo pomeriggio, o la faccio prima o dopo. La faccio tutti i giorni la diretta, non è che comandano quegli altri canali, comando io, e loro non sanno niente, loro sono zero, non capiscono, loro non sanno, voglio dire, loro non sono niente. Io sono famoso, e sono tutto un mondo che mi vogliono bene. Grazie a tutti, benvenuti, e scusatemi, e perdonatemi, e mi dissocio. John Zina, Yo-Yo Menenzini, ciao Paolo, ciao Silvia, ciao Claudia, Gloria e Silvia, Mary e Jennifer, Ricordatemi al Colleggio, Luce del Nord, alla Colleggio se è assunta. E niente, eccolo qui. Saluto Antonio, Fabio, Valentina, Maus23, Over e tutti quelli dei Telegram, quelli che mi mandano i messaggi, quelli che mi vogliono bene, no, quelli che sono scemi e commentano stronzate. Devo parlare oggi della diretta, questo video lo vedete in ritardo, lo metto lo stesso, a dopo, dai, metto pausa, andiamo a fare qualcosa. Apri il cellulare che è tardi, ok? Andiamo. Ok raga, apriamo il cellulare. Sono qua, sono qua, c'è Usuli, e da voi raga che tempo è? Eccolo qua, aspettate, metto la voce, il volume è basso, non voglio, mi arrivo nei messaggi che devo parlare con voi, dopo rispondiamo ai vostri messaggi in privato in un'altra parte. Aspettate, metto pausa pochi minuti, che ancora devo cercare la fidanzata. I film non a me mi vogliono, a voi non mi vogliono, che voi siete la vergogna del vostro paese, non capite niente, andiamo. Ok raga, parliamo un pochino e diciamo, vediamo che dice, i frasi. L'ironia è sprecata quando si usa sugli stupidi. Questo è per voi, haters, che non valite niente. Il problema dell'unità, che gli stupidi sono strassicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Sii felice della vita perché ti dà la possibilità di amare, lavare, giocare e guardare le stelle. Mostra rispetto per tutti, ma non umiliarti davanti a nessuno. E poi c'è scritto, vivere è la cosa più rara, il mondo, la maggior parte delle persone esiste, questo è tutto. Il tuo cervello è come l'isola di Peter Pan, questo è D.I.E. Mai disturbare con un idiota ti trascina al suo livello e ti batte con l'ebrienza. La bonda è l'unica inventamento che non falisce mai. Bellissime frasi, aspettate che sta calando un bastone di selfie per sotto. Io lottano per sopra, ma vabbè, arrivo, facciamo altre cose, basta così le frasi. vorremmo che così la smettono. Raga, e noi lasciamo in pace quelle persone di quell'altro canale. Dopo loro si stufano e non pensano a noi. O le mandiamo al loro paese. Io mi dissocio, YouTube eccetera eccetera. Vabbè, dai andiamo avanti. Ok raga, ma lo sai quelli sono i benvenici benefici di leggere un libro? Qua dice, ci sono cose che non tutti possono comprendere. Non tutti possono lasciarsi trasportare della condiente, nate di una sinfonia, di un concerto di musica classica. No, sto leggendo un libro raga, non è che YouTube io mi dissocio. Sto leggendo novità, un libro, su internet, su Google. Andiamo avanti. Non tutti percepiscono l'adrenalina, ho detto giusto, l'adrenalina, durante il passaggio di palla tra due giocatori che stranno per giugnare gol decisivo. Mi dissocio, so parlare io, ho sbagliato un poco, me ne frego e vado avanti. Sono italiano con la presa di aletto. Vabbè, facciamo altre cose, basta, mi devo imparare. So leggere perché devo imparare. C'ho i libri, c'ho i guaderni, c'ho tutto io. Chi mi tenia quando sono andato a scuola a terza, a Meleto, Portosalva, a Ragioneria. Andiamo. Ricordatevi che vi voglio bene. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti ragazzi, un like, seguitemi e condividete. Ricordatevi che io sono il dio di YouTube. Sono famoso, sono una leggenda e sono uno YouTuber. E' il numero uno. A tra poco, dai. Raga, non state qua, andate a dormire e non rompete le scatole a me. Io voglio bene solo le persone che mi vogliono bene e mi seguono tutti su YouTube. Arrivo, ok? Non toccate le persone su Telegram, quelle che mi vogliono bene e avete guai. Io faccio un culo tanto così e mi dissocio YouTube. Non è una cosa parolaccia, bestemmia. Ho detto solo così e la smettono. Io sono contento, voglio ridere. Non è che sono triste e sono arrabbiato. Dico la verità io su YouTube. Loro sono sceme e non la smettono. Non hanno permesso e prendono i miei video. Lo devono dire prima a me, o sì o no. E io dico no, no, non potete pubblicare. E dico sì, sì. E loro non hanno permesso. Vabbè, diciamo altre cose. L'ho detto questa volta, basta. E dico le cose nuove. Non voglio dire le stesse cose. E continuo che rompono le scatole quelli. Che io sono gentile, sono un bravo ragazzo, un bravo uomo. Che non è, che dico cose male. Io tratto le persone gentili. Io le adoro e voglio bene. E sono il vostro YouTuber preferito. Il numero uno, il dio di YouTube. La leggenda e sono famoso io. Andiamo avanti, dai. Ok, io questa persona lo saluto. Non è strano questa persona. Si chiama Traus Not Vitor Ciao. Ciao bello. T'ho assolutato. Un saluto e un abbraccio a Traus Not Vitor Ciao. Ciao a tutti raga. Aspettate ancora. No raga, ho messo pausa perché mi hanno chiamato la mia famiglia e finì ad aiutare. Non è che non faccio niente. Sapete voi che io aiuto la mia famiglia a pulire, cacciare la tovaglia e altre cose. I piatti, i bicchieri. Io che li lavo. I focchetti, i focai. Li dico come mi escono. I bicchieri di plastica e i piatti li buttiamo. E poi, ora vado in riposo. Chiudiamo questo video. Dormivo sempre qua. Non dormo più qua. Mi vedete le foto o i video o altre cose. Io le faccio qua e dopo vado sopra e mi porto il telefono e le metto a caricare sopra. Tutte cose. Ricordatevi che io tifo la Juve, la Regina Italia. Io voglio bene le persone che sono venuti tanto anni fa all'Azzaro, in giro, a festa, a fare le foto, alla firma, un video saluto. Io sono contento e non è che sono quelle persone strane. Io sono là, bravo, faccio compagnia alle persone che mi seguono e aiuto le persone su Telegram, quelle che parlano e ci sono persone strane e le devo o lasciare a commentare o le devo bloccare. E poi voglio dire una cosa e quando arriva boh, quando vado a comprare altri vestiti, faccio le foto, il video, questo video lo voglio fare perché a me la mia vita è su YouTube. Lavoro là sotto un giardino in sapaterra, pianto pomodoro, patate, ceppute, eccetera, eccetera. Non è che faccio solo quello lavoro, faccio anche qua a casa. Io sono grande, ho 29 anni e vengono a rompere le scatole quelle là, quegli altri canali. Io sono gentile, vedete che non sono arrabbiato, voglio ridere e sentite parlare la mia famiglia, ora finisco questo video, lo chiudo, vado sopra, farmi in riposo e dopo scendono e mangio un gelato, dopo quando è ora mangiamo, guardate mi sono attano sopra, come sempre, voglio dire, voglio cantare una canzone, so le stesse canzoni, io non so altre canzoni, o lo facciamo la prossima che canto il karaoke con la base, raga, io volevo tornare indietro come voi volete tornare anni 90, anni 80, belle canzoni, quelle vecchie, è bello raga, e niente, io quasi lo chiudo, aspettate e metto pausa, sentite parlare della mia famiglia, che mio papà, mia mamma e mia nonna li vogliono bene, voi state con la bocca chiusa, che non potete prendere in giro a nessuno, fate i bravi, dai, non state qua, andate a lavorare, o a dormire, fate i bravi, che fai? Vai via, bravo, anche voi, show, ciao belli, John Zina, YoYo Menenzini, andiamo, che dopo gli devo mettere un radio a mia famiglia a sentire la musica, ciao, per formata diretta, o la faccio prima che dopo devo mettere un radio, e metto un radio non posso mettere e faccio la diretta quella che ho formata ieri, che la faccio oggi e tutti i giorni, vi voglio dire, mettete mi piace, volete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, bello a tutti i ragazzi, seguitemi, so parlare, calmatevi, fate i bravi, dai, ok, il mostro completo, padaloni, bucati, la camicia, sono un figo, così i film non mi vogliono, macri, sick, sex, catattaruga, e ricordate i vecchi video, io sono un ragazzo carino, quelli ragazzi che mi piacciono, mi piacciono, biondi, macri, bellissimi, sex, capelli niri, biondi, voi che facete, io, zappo, avigna, c'ho il Samsung Galaxy Grandneo, c'ho la Play 3, voi che facete, e altre frasi, do il numero a quella persona, e altre frasi, e ricordate il vecchio video, quello famoso, 2014, ho fatto prima quello, e l'ho mandato a quella persona, lo volevo mandare a un'altra persona, e ho sbagliato, e l'ho mandato da lui, quello famoso video, 2014, dopo intervista con quella persona, 2015, è venuto qua, dopo intervista, o un video con quella persona, di Padova, quello là, quell'altro, 2018, avete visto, volete venire a Muccioni, eh, qua non comando a nessuno, comando io, con la mia famiglia, io non dormo più qua, dormivo, ora dormo sopra, sono grande, quando c'ho, una famiglia, quando mi sposo, quando è ora, lavoro, ora lavoro, prima, zapatero con il zappone, finisco qua, dopo quando trovo il lavoro, quando è ora, trovo, a moglie, o a fidanzata, eccetera, eccetera, vabbè, ancora è presto, ho 29 anni, la posso trovare subito, e così, mi dico che io lavoro, stiamo insieme, io la amo, se devono trattare bene, le donne, e le ragazze, smettetela uomini, non trattate male, le donne, e le ragazze, e animali, che stop bullismo, e stop violenza, sulle donne, e le ragazze, e animali, smettetela, a trattare, le animali, male, e le abbandonate, e le donne, e le ragazze, non trattate male, le persone, avete guai, fate i bravi, ciao belli, io vi saluto, chiudo così, e niente, io, vi chiudo così, il video, così, e mostro il mio corpo, sex, vabbè, mi dissocio, ciao belli, ciao Paolo, ciao Silvia, ciao Gloria, ciao Claudia, e Silvia, e poi, e Mary, e Jennifer, ricordate, ma con la G, luce del nord, dalla Polix, e Assunta, ciao belli, e, fate i bravi, ciao ciao, io vado, finisco ancora, altri lavori, e vado a riposarmi, dormo sopra, state calma, state con la bocca chiusa, ciao belli, queste le posso dire, non è che cose, sono cose brutte, ciao ciao,